Un vero e proprio ticket per ogni licenziamento all'interno delle imprese edili, una tassa che scatterà dal prossimo 1 gennaio e che graverà ulteriormente sul comparto già stremato da mille difficoltà. Per ogni anno di lavoro prestato dal dipendente, infatti, il datore dovrà versare 489,95 euro fino ad un massimo di tre anni. Un contributo fino al 31 dicembre 2016 escluso per i licenziamenti dovuti al completamento delle attività e chiusura del cantiere, grazie al cosiddetto mille proroghe che ne ha differito l'applicazione. Ma dal 2018 non ci sarà scampo. Secondo le stime fatte dall'ACEM, una tassa insostenibile che le imprese non saranno in condizione di sopportare. Per questo l'associazione si è rivolta con una nota al ministro del lavoro Giuliano Poletti, ai parlamentari molisani, che sono già stati convocati per i prossimi giorni, e all'Organizzazione Nazionale di Appartenenza chiedendone l'abrogazione per il settore o quantomeno per le ipotesi di licenziamenti operati per il completamento delle attività e chiusura del cantiere. Questa tassa non tiene conto della peculiarità dell'edilizia in cui i rapporti di lavoro sono più frammentari per via del fine cantiere, spiega il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Comunque occorre che il governo comprenda che non si può continuare ad addossare tutto a carico delle imprese, altrimenti molte di esse saranno costrette a chiudere, in quanto non avranno più le risorse minime per andare avanti.